ciao e benvenuto sul mio canale youtube sono elisa un'operatrice olistica specializzata in cammini per le fiamme gemelle perché per le fiamme gemelle perché sono una fiamma riunita da quasi quattro anni ovviamente quello che so meglio è il mio cammino a proposito del mio cammino oggi voglio continuare a parlarti dello sciamanesimo di questa pratica meravigliosa che mi ha aiutato tantissimo sia nella mia vita personale che nel mio cammino di fiamma gemella ed è proprio di questo che oggi voglio parlarti ovvero del rapporto che ci può essere tra sciamanesimo e fiamme gemelle perché dovresti intraprendere questo cammino proprio tu che sia una fiamma gemella che sei in separazione che sei in sofferenza e che vuoi giustamente questa riunione perché dovresti intraprendere questo percorso come ti ho accennato più volte nei miei video se molto che mi segui io mi occupo molto di scioglimento dei traumi delle paure e di tutto ciò che è connesso ai blocchi dell'animo umano e ai blocchi che non ti permettono di andare avanti nel tuo cammino di fiamma e anche nella tua vita in generale però visto che siamo qui a parlare di fiamme oggi ti parlerò proprio della connessione tra fiamme gemelle e sciamanesimo una prima connessione importante è proprio il fatto che attraverso questo strumento tu puoi sciogliere le tue paure i tuoi traumi e i tuoi blocchi perché è importante scioglierli perché sono proprio questi che bloccano la co-creazione della tua realtà e nella tua realtà ora c'è anche la tua fiamma c'è anche questa voglia giustissima di riunione ma fino a che non si sciolgono quei traumi che la fermano purtroppo la riunione non ci può essere come spesso ti ho detto non c'è bisogno di essere perfetti per riunirsi con la fiamma però ci sono alcuni traumi che vanno assolutamente sciolti come per esempio il trauma dell'abbandono il trauma del rifiuto il trauma dell'umiliazione il trauma dell'ingiustizia questi vanno assolutamente sciolti perché perché la tua fiamma te li mostra se ti mostra il trauma dell'abbandono ovviamente ti abbandona se ti mostra il trauma del rifiuto ovviamente ti rifiuta se ti mostra il trauma dell'umiliazione ovviamente ti umilia quindi queste sono proprio le basi su cui partire per intraprendere un percorso verso la tua riunione ma non solamente intesa come riunione con la fiamma ma specialmente come riunione con te stesso con la tua essenza con quello che tu sei davvero quindi questo è il primo passaggio che tu puoi fare con il percorso sciamanico grazie all'aiuto del tuo spirito guida che ti accompagna puoi andare a fondo di te stesso comprendere la radice di questo trauma e scioglierla spesso come ti ho già spiegato in un altro video è importante dopo aver sciolto questi traumi andare a fare anche un recupero dell'anima proprio perché l'anima in quel momento quando si è generato il trauma ha sofferto moltissimo e quindi se n'è andata un pezzo è andata via quindi questa parte anche questa parte lo puoi fare sempre con il percorso sciamanico grazie all'accompagnamento del tuo spirito guida che proprio ti porta a cercare questi pezzi di anima che si sono persi per guarirli e per farli tornare da te e perché anche questo pezzo importante per le fiamme gemelle perché se tu hai lasciato dei pezzi di anima perché sono in sofferenza tu sei in sofferenza e la sofferenza crea la paura la sofferenza allontana quindi è importante andare a recuperare tutti i tuoi pezzi della tua anima per fare in modo che anche la tua fiamma ti veda finalmente completa e luminosa e possa dire wow io voglio quello io voglio arrivare lì perché lì c'è una luce fantastica perché io lì vedo la mia di luce quella luce che per tanto tempo non ho visto ma ora lei me la sta mostrando ora lei è intera è meravigliosa con tutta questa luce che emana con tutto questo amore per se stessa per il mondo e anche per me io voglio arrivare lì e quindi con questa voglia di arrivare alla tua luce anche lui può incominciare un cammino però ovviamente se lui in te vede la sofferenza e non vede questa luce fantastica che tu sei non ha questa spinta e quindi è importante fare dopo aver fatto questa guarigione dei traumi e delle ferite andare a prendere i pezzi di anima che si sono staccati da te proprio a causa di questi ultimi altra cosa importante che ti dà lo sciamanese nel percorso di fiamma è proprio uno strettissimo contatto col tuo spirito guida e con i tuoi animali di potere sugli animali di potere ti ho fatto il video l'altro giorno quindi puoi andarlo a vedere in cui spiego bene il rapporto e chi sono questi animali come ti possono aiutare nella vita quotidiana e quindi molto importante questo rapporto perché perché ti possono aiutare anche nella terza dimensione molte volte molte fiamme a me chiedono ma devo mandargli un messaggio non devo mandargli un messaggio ma come mi comporto poi in 3D che cos'è giusto fare adesso anche per lui non solo per me cioè è giusto questo insilenzio è giusto invece che io lo cerco non lo devo cercare ma posso arrabbiarmi per questo ma questo è ego questo è anima molta molta confusione che lo spirito guida o i tuoi animali di potere possono invece chiarirti possono invece mettere ordine in tutta questa confusione e dirti anche che passi a fare in terra giusti per quel momento sia per te che per lui e questo è molto molto importante e molte fiamme anche magari hanno a volte dei dubbi sull'essere fiammo o meno ma se una mia fiamme magari è solo un karmico magari è solo un narcisista patologico e sto perdendo tempo ecco questo te lo possono dire spiriti guida e animali di potere quindi possono darti una grande mano anche per darti delle risposte sui tuoi dubbi nel cammino di fiamma nel percorso sciamanico oltre al lavoro magico sciamanico che è proprio la base del percorso perché queste tre attivazioni ti insegnano a fare i viaggi sciamanici che ti aprono i canali proprio per accedere a questa energia dopo aver fatto questo si può fare il reiki per il recupero sciamanico dell'anima poiché con questa tecnica in realtà è molto più semplice andare a fare il recupero dell'anima inoltre c'è anche l'attivazione delle essenze degli animali sciamanici questo perché? perché magari una persona non sempre si ha il tempo per mettersi a fare un viaggio sciamanico perché comunque richiede anche una certa preparazione ma con la musica io faccio sempre anche il cerchio, le candele, la protezione però facendo le essenze che è molto più veloce che cosa succede? che tu puoi spalmartele o puoi anche berle in modo tale che assorbi la energia di quel determinato animale che ti può aiutare nella 3D nel tuo cammino di fiamma altro pezzo importante di questo percorso è la fenice che ti aiuta proprio a bruciare tutto quello che non serve più nel tuo cammino di fiamma per poi ricostruire, per poi rinascere anche questa è una parte molto importante perché spesso per costruire qualcosa di nuovo è importante distruggere quello che non ti serve più perché non puoi andare a costruire il nuovo su un qualcosa che ormai è dolore che ormai è sofferenza e quindi ti aiuta anche lei a sciogliere i traumi a sciogliere tutte queste paure perché proprio fa terra bruciata di tutto e poi tu da lì devi ricominciare tu altro pezzo importante è il cigno il cigno che mi ha aiutato tanto perché ti aiuta a comprendere ad affrontare in modo differente i cambiamenti che avvengono nella tua vita perché per esempio dopo che hai fatto un lavoro insieme alla fenice devi accettare il cambiamento a volte è difficile perché? perché nella zona comfort in realtà stiamo bene anche se stiamo male e quindi il cigno ti aiuta proprio a far fronte al cambiamento che devi affrontare e a vedere la tua splendida luce perché affinché non la vedi tu non puoi vederla cioè non puoi vederla neanche la tua fiamma quindi anche questo è molto importante e poi vi è l'attivazione del labirinto che questa me l'ha data l'arcangelo Michele quella è meravigliosa veramente perché grazie al lavoro nel tuo labirinto interiore puoi proprio andare a vedere che cosa ti blocca per arrivare fino al centro fino al centro di te stesso perché è lì che devi arrivare al centro di te stesso quindi entrerai in un vero e proprio labirinto accompagnato sempre ovviamente dal tuo spirito guida questo è importantissimo perché senza lo spirito guida non si va da nessuna parte mi raccomando entri nel labirinto e vedi tutto ciò che hai da sciogliere vedi tutto il percorso che devi fare per giungere al centro e puoi chiedere anche mostrami il percorso che io devo fare per giungere alla riunione puoi anche andare a chiedere questo al tuo spirito guida farti accompagnare nel labirinto per farti vedere proprio tutte le tappe che sono importanti per te per arrivare al tuo obiettivo e nel labirinto poi ovviamente puoi agire puoi sciogliere puoi iniziare questo lavoro quindi cioè quindi con il labirinto puoi avere magari una visione un po' più globale di che cosa sta fermando questa riunione però ovviamente da parte tua sempre da parte tua perché poi la parte sua puoi anche andare a chiedere al tuo spirito guida però quello lì lo puoi fare in un semplice viaggio in un semplice viaggio sciamanico gli puoi chiedere ma guarda ma perché ma lui quali blocchi ha come posso aiutarlo e questo credo che sia veramente uno strumento meraviglioso per tutte le fiamme gemelle proprio perché è giusto che comprendiamo anche ogni tanto con la mente è giusto che abbiamo dei passaggi chiari da compiere per giungere al nostro obiettivo ovvero un piano un piano d'azione perché? perché questo ci fa sentire anche un po' più sicuri perché in questo modo sappiamo che siamo sulla strada giusta e che non abbiamo nulla assolutamente nulla di cui avere paura se hai domande ovviamente mi puoi scrivere una mail oppure puoi anche scrivere un whatsapp per prendere anche un appuntamento in modo tale che poi possiamo parlare insieme di tutto questo in modo tale appunto che mi puoi porgere tutte le domande che vuoi e di cui ne senti bisogno condividi questo video e commenta per farmi sapere ovviamente il tuo pensiero io sotto al video ti metterò anche il link con tutto il programma del corso sciamanico e questo è tutto per oggi ti mando un bacio grande al prossimo video iscriviti al nostro canale